Non lo si può escludere, ma non si può nemmeno essere certi che la carcassa del capodoglio trovata sugli scogli di Polignano a Mare appartenga ad uno dei quattro capodogli sopravvissuti dallo spiaggiamento dello scorso 12 settembre a Vasto. Per stabilire se appartiene al branco di Vasto, oltre alla misura che dovrebbe essere intorno agli otto metri, che sarà difficile da effettuare perché mancherebbe la pina caudale, al genere che dovrebbe essere femminile, si dovrebbe esaminare il contenuto dello stomaco per vedere se le specie di cui si è alimentato questo capodoglio sono state ritrovate nello stomaco degli altri tre. Sarebbe questo elemento a dare maggiori certezze avendo frequentato le stesse zone e soprattutto se il cetaceo è morto con lo stomaco pieno, seppur a distanza di diversi giorni dallo spiaggiamento sulle coste abruzzesi. L'esame autoptico per stabilire il periodo di morte e un prelievo di DNA saranno effettuati sulla carcassa. Quello eseguito sulla spiaggia abruzzese rivelò la presenza di gas nei vasi sanguigni, una probabile conseguenza, secondo gli esperti, di una riemersione troppo rapida, causata probabilmente da un trauma improvviso come potrebbe essere quello provocato dalle tecniche invasive di ricerca di petrolio nei fondali in Adriatico. Secondo gli esperti il fenomeno riscontrato in questo periodo, insieme allo spiaggiamento di decine di tartarughe lungo la costa adriatica, tra Monopoli e Margherita di Savoia, è l'ennesimo campanello d'allarme che il mare ci sta dando. Oggi, inoltre, nel corso di una riunione della Capitaneria di Porto, si deciderà come rimuovere la carcassa e le modalità di smaltimento.